Amici di Politicamente Scorretto, siamo qui nella giornata conclusiva della manifestazione con Andrea Gambetta, produttore del film Pasolini, cronologia di un delitto politico. Allora, di questo film qua, com'è nata l'idea di farlo? C'è stato sicuramente il centenario di quest'anno che è stata un'occasione per in qualche modo sottolineare l'importanza di un intellettuale come Pasolini e poi anche questa collaborazione che abbiamo attivato con un autore come Andrea Speranzoni che aveva fatto il libro Pasolini è un delitto politico e quindi un omicidio politico si intitola il libro. Quindi un po' con Paolo Fiore Angelini il regista abbiamo deciso un po' di intraprendere questa avventura cercando di dare non l'ennesimo film generalista su Pasolini, pur nell'importanza appunto che è un cineasta intellettuale, scrittore, poeta come lui ha avuto nella nostra cultura, ma cercare di dare una sorta di visione generale da più punti di vista di un delitto storico come è stato il suo. Ok, sul libro di Speranzoni qual è stato l'aspetto che più di tutti avete voluto mantenere anche nel film? Speranzoni ha fatto un libro, un saggio molto complesso e quindi come sempre la sceneggiatura, il canovaccio del documentario ha avuto, credo siamo arrivati alla decima versione, come sempre il cinema del reale, il cinema del documentario non è mai così pedissequamente legato alla propria sceneggiatura perché molte dell'elaborazione che tu fai durante la lavorazione arriva proprio dal feedback che raccogli dai vari testimoni. Quindi partendo da quel canovaccio fondamentale è stato però importante capire anche, è stato importante per sollecitare i vari testimoni che abbiamo coinvolto ma al tempo stesso anche quello ha creato poi nella fase di montaggio una struttura filmica che è appunto questa della versione finale presentata di circa due ore. E che obiettivi è che volete raggiungere, che aspettative vi siete fatti per questo film? Beh sicuramente il nome di Pasolini e soprattutto del suo delitto, già dal primo annuncio del telegiornale del giorno appunto in cui avvenne l'omicidio, ha avuto questa sorta di pregiudizio legato all'omosessualità di Pasolini che non aveva mai nascosto e che se è un tema ancora oggi molto forte il tema del genere ma se pensiamo a quegli anni insomma è sicuramente stato un precursore di un uomo che diceva da subito e sempre quello che pensava del mondo, delle cose compresa la propria sessualità. Quindi sicuramente questo è stato un aspetto che credo questo racconti bene il film man mano facendo nello sviluppo delle due ore della narrazione si capisce che è stata in qualche modo utilizzata per una forma di discredito arrivando a se le cercate in qualche modo con una storia che invece è molto più complessa e ha dei risvolti che rimangono tuttora insomma non così chiari come si è voluto invece farlo sembrare. Ok, le faccio un'ultima domanda quanto è importante partecipare a manifestazioni come Politicamente Scorretto per promuovere un film come questo e se avete intenzione di farne altre di collaborazioni di questo tipo con eventi appunto come questo qui che è sottofatto a Casa Lecchio che ormai si fa da oltre 17 anni l'anno prossimo diventa maggiorenne? Io credo che sicuramente la mia generazione è cresciuta all'interno delle proiezioni dei cicli di Cine Club io sono stato, ho avuto per quasi 30 anni una sala a Parma e se devo essere in qualche modo, se trovo una definizione che in qualche modo racconta quello che faccio è la definizione di operatore culturale come intendeva Zavattini quindi sicuramente occasioni di incontro dal vivo in cui le persone possono discutere di argomenti importanti e confrontarsi con testimoni che vengono dal mondo civile e che in qualche modo arricchiscono la comunità e il territorio è una cosa che penso abbia un'importanza fondamentale e sempre di più dato che in qualche modo anche il cinema nelle sale ha un esito inferiore a quello che c'era un tempo e molti produttori rivolgono le proprie opere direttamente in televisione o sulle piattaforme però è logico che l'importanza di vedere un film al cinema su grande schermo e poi di poterlo con gli altri in qualche modo credo che sia un momento di arricchimento personale sociale e civile di fondamentale importanza quindi sicuramente Pasolini cronologia di un delitto politico verrà proiettata anche in altre occasioni prossimamente perché poi è distribuito dalla Cineteca di Bologna ma anche come uomo penso che siano preziosità che vanno preservate e semmai fortificate proprio anche in futuro molto bene allora ringraziamo Andrea Gambetta per aver risposto alle nostre domande e salutiamo gli amici da casa che hanno seguito questa manifestazione grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti